Vuoi che ti aspetti? No. No, andrà tutto bene. Come va, amico? Mi dispiace, ma non posso preoccuparmi per il tuo amico. Dine un problema tuo, che ti piaccia o no. Stiamo cercando l'uomo più sfortunato della Terra. Non abbiamo tempo da perdere. Otterremo molto di più che con un interrogatorio violento. Ci muoviamo adesso, pronti ad entrare in azione. Grazie a tutti.